ragazzi un saluto a tutti da Mario Inter e buona domenica a tutti quanti voi buona domenica a tutti allora sono deluso sono deluso perché dopo una partita del genere giocata ieri no? questo secondo posto conquistato che poi alla fine non è un trofeo però dopo tutto quello che stiamo passando noi interisti no? questa cosa qui mi ha proprio deluso perché pensavo che finalmente le cose stavano andando per il verso giusto e invece ieri è uscita la bomba Antonio Conte si è sfogato davanti alle telecamere da una parte da una parte ha detto cose giuste da una parte quindi ascoltate bene il discorso che voglio fare da una parte ha detto cose giuste ma dall'altra parte non mi è piaciuto dove l'ha detto queste cose sappiamo tutti quanti che la dirigenza dell'Inter è sempre stata una dirigenza un po' dormiglione è inutile che ci giriamo intorno lo sappiamo anche noi tifosi i giornalisti che hanno parlato tanti di questa Inter dell'Inter di Antonio Conte quando sono arrivati tutti quei pareggi la sconfitta con la Juve però caro Antonio Conte tu a me mi devi dire che te la prendi con loro ho capito però anche tu ci hai messo del tuo caro mister è inutile che ci giriamo intorno in tante partite ci hai messo anche tu del tuo sai qual è la vera differenza tra te José Mourinho visto che hai parlato dell'Inter di Mourinho è questa che Mourinho buttava pure tante frecciate ma non alla dirigenza lui le frecciate le sapeva tirare ma non alla dirigenza non si è mai permesso mai non si è mai permesso quello lì e tu invece no tu invece ieri sembravi uno youtuber ti sei messo davanti alle telecamere credete a me? no allora alla fine tu hai difeso i ragazzi ok? hai difeso i ragazzi come gruppo ma non come giocatori se voi ascoltate bene alla fine fa capire che qua ci sono tanti scarsoni capito? io Antonio Conte l'ho capito credo che l'abbiamo capito un po' tutti quanti sappiamo anche che mister Antonio Conte mette Eriksen all'ottantottesimo minuto l'ottantanovesimo minuto per ripicca capito? che fa Antonio Conte? Antonio Conte dice non mi avete preso chi volete questo qui è la fine che gli faccio fare al vostro giocatore non al mio al vostro giocatore perché se no non si spiega Eriksen mi entra all'ottantanovesimo minuto però un grande allenatore un grande allenatore un grande allenatore si deve adattare anche a quello che ha se ti hanno dato Eriksen ormai è arrivato a sto punto sfruttalo tu invece no cazzo per ripicca per ripicca lui non gioca anzi te lo faccio per dispetto te lo so faccio entrare all'ottantanovesimo minuto o fai come dico io o tu nada parli del gap della Juventus caro Antonio Conte mentre vedevi le immagini ma loro hanno vinto nove scudetti il nonno scudetto si lo sappiamo ma è il gap caro Antonio Conte non a diminuire questo gap non sei stato tu è stata la Juve stessa perché la Juve aveva un centrocampo come Pogba Pirlo Vidal ora invece si ritrova Corrabbiot Matuidi Bentancur che è un giocatore che ora sta facendo qualcosina ed è molto bravo però da Glasgow Starrot che sia un'altra che vuole tutti i palloni per sé guardi che è la Juve che ha diminuito il gap con noi cioè non sei stato tu è la Juve invece che ha abbassato questo gap come dici tu il gap il gap secondo me poi ognuno la pensa come vuole siete liberi di dire quello che volete sotto il mio canale su tutte le persone che hanno sempre detto Antonio Conte out non sono mai stato d'accordo l'ho sempre detto in tutti i miei video per me Antonio Conte è un ottimo allenatore da tenere però anche lui fa i suoi sbagli cioè alla fine questo qui guadagna 12 milioni di euro e ieri ha preso l'Inter a pesci in faccia quindi ieri Antonio Conte ha preso la società Inter a pesci in faccia ora io mi chiedo tutti gli interisti che dicono o che dicevano l'Inter rimane gli allenatori e i giocatori se ne vanno ora voi andate a favore di Antonio Conte ma voi ci pensate che l'Inter rimane e Antonio Conte se ne vuole andare a me questa cosa qui ieri mi è stata proprio sul cazzo perché ripeto può avere anche ragione ma non dirlo su Sky che Pavel Nedved ieri era arrittato con Paratici e Agnelli erano arrittati dalla goduria perché perché quando finiva l'Europa League oppure che che ne so io ti lasciavi con l'Inter ti metteva il microfono allora io me ne sono andato per questo 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 e questo era un altro discorso dice minchè è incazzato se ne è andato perché qualcosa vediamo che cosa è successo allora lì dico ma va bene va bene si sono lasciati è normale che uno poi parte in terza e dice tutto quello che è successo ma non ieri ieri no tra l'altro su su Sky su Dazon dappertutto l'hai detto cioè proprio hai preso l'Inter come società come dei pagliacci pagliacci ma che cazzo pretendevi da una parte ma cosa volevi scusa volevi subito Messi ma per cosa lui voleva Vidal Vidal non è stato preso e quindi e vabbè il prossimo anno ora ti fa la squadra come si deve io non lo so ti sta prendendo dappertutto uno dei migliori esterni ora che è Hakimi perché a te ti piace giocare sulle fasce perché non sei riuscito a fare un modulo per questi tipi di giocatori perché noi abbiamo visto che tu hai pareggiato anche tante partite per questo sistema di gioco che tu hai è inutile che ci giriamo intorno perché tu tu sei proprio uno del sud proprio che dice no cazzo l'orgoglio mi dice che devo fare questo e questo si fa ti sei fissato con Ericsson e con Ericsson questo si fa allora per come la penso io poi uno si fa un pensiero perché vedi anche la storia di Mauro Riccardi no? che fa la foccia grande che ride e l'omino che fa così dopo le parole di Antonio Conte questo mi fa pensare che Antonio Conte voleva tenere anche Mauro Riccardi la società ha detto no e poi alla fine ha detto va bene Icardi lo stai vendendo ma almeno prendimi Zecco perché era giusto che Icardi andava venduto ma almeno prendimi Zecco e Zecco non è stato preso ecco vedi su tante cose gli possiamo dare ragione a Antonio Conte ma l'ha detto nel posto sbagliato nel momento sbagliato secondo me criticavate tanto Mauro Riccardi che parlava sui social che le cose si dovevano tenere private e poi alla fine Antonio Conte ha fatto la stessa cosa ma ha dato ragione a Conte ma voi non eravate quelli lì che l'Inter rimane e gli allenatori i giocatori se ne vanno punto interrogativo detto questo sono molto deluso sono deluso perché finalmente pensavo in un Inter serie in un Inter che finalmente stavo andando per la direzione giusta e invece non mi è peggio poi pure credetemi che Lukaku non sapete che cosa ho dovuto fare per prendere Lukaku credetemi credetemi non credete a loro che loro sono dei pagliacci credetemi poi la storia del carro un grosso cazzo di carro che va in giro sono deluso un passo indietro ieri dopo una bella vittoria abbiamo fatto un passo indietro mi dispiace ma è così sempre ammela e forza Inter Antonio Conte io voglio che tu rimani speriamo che insomma con questa società ne parlate per bene e io non ho mai detto Antonio Conte out perché per me sei un grande allenatore però occhio come parli buona giornata a tutti fatemi sapere la vostra ciao ciao